Mister, da martedì come si ricomincia dopo una beffa del genere? Andiamo in cerca noi di queste cose qua, adesso mi sono stancato perché a me non... Ripeto, quando abbiamo fatto una prestazione, io ci metto sempre la faccia. Quando abbiamo fatto una prestazione ridicola come a Monopoli, l'aneratore dice, alza il braccio e dice, ok, malissimo, ci metto sempre io, diciamo, è giustamente, sono io il capo di questo gruppo. Però se noi lavoriamo, una volta si apre la barriera, una volta si piglia un taglio, si piglia un gol, oggi si lascia su un taglio un uomo giocatore libero, non esiste. Cioè noi abbiamo fatto una partita perfetta, benissimo nella fase di non possesso, sufficiente nella fase di possesso, dobbiamo essere un pochino più ficcanti, però a potenza in questo momento, venire a giocare non è semplice. E abbiamo fatto una partita umile, giocando mercoledì, ricca di contenuti, ricca di squadra, ricca di contenuti tecnici e tattici, soprattutto tattici. E buttare per aria una partita per una disattenzione così grave, ma veramente gravissima, questa non mi sta bene, perché queste non sono cose che si insegnano neanche agli esordienti della squadra provinciale del Paese. Queste sono cose che fanno veramente, danno veramente fastidio, mi fa incazzare. Non voglio sentire parlare nessuno, perché mi hanno fatto girare le scatole veramente, questa roba qui è pesante, è già la terza volta. Non esiste. Mi fa, io ripeto, siccome sono io responsabile, voglio sbagliare del mio, questo è un gol che si prende solamente per gravi disattenzioni. E questo non mi sta bene, perché la disattenzione per chi ci dà lavoro, per chi ci allena, per chi viene a vedere la partita, non esistono. Preferisco prendere un gol da Emerson da 50 metri, ma no così, al 92, al 30 non esiste. Non esiste. Quindi il morale sicuramente ritorna ad essere sotto i tacchi, siamo sempre costretti a rincorrere e questo dà fastidio. Proviamo ad astrarci un po' dal gol preso, so che è complicato, però per 91 minuti e 30 secondi ha visto quell'atteggiamento che aveva chiesto venerdì. Sì, è questo che dispiace, perché lo avete visto tutti quanti voi, abbiamo cambiato sicuramente il modo di interpretare le partite e questo mi ha fatto molto piacere. Però è normale che se uno costruisce, fa 100 mattoni al 99esimo mattone, tira una pedata per buttare giù la casa, allora vuol dire che siamo autolesionisti. E questa è una cosa che non esiste. Non esiste. Cioè noi non possiamo assolutamente concedere agli avversari questi errori gravi, così gravi. Su quel taglio di longo che cosa è stato sbagliato? Lo voglio rivedere, ma in questo momento qui, ripeto, le idee ce le ho chiare, ma non mi sembra che a caldo sia giusto anche... Io non voglio incolpar nessuno. Ripeto, sono io l'allenatore, devo assumermi io le responsabilità, io la faccia ce la metto sempre. E comunque, perché penso di avere sia le qualità morali e soprattutto le qualità di competenza. Io valuto la prestazione, la prestazione per 92 minuti è stata ottima. Purtroppo siamo riusciti a dilapidare anche questo in un centesimo di secondo con questo grave errore. Posso chiederle quando ha pensato di modificare uomini e impostazione tattica? Giovedì pomeriggio, perché abbiamo fatto la conta di chi c'era in maniera tonica. Avevamo qualche problema di recupero con qualche giocatore. All'ultimo tuffo anche Bombaggi ha avuto un problemino che se era la finalissima di Coppa di Calconi probabilmente ci giocava, però mi sembrava scorretto rischiare un giocatore che si poteva fermare per due mesi. Quindi questa è tutta la verità. Possiamo dire che a livello di finte e controfinte, Tedino in questa squadra è il numero uno, aveva parlato di Costa Ferreira che non era al massimo. Oggi abbiamo visto una grande prestazione giocata da titolare. No, non è finte e controfinte. È un merito. No, no, no. Io sono sempre alla rincorsa di fare il bene della squadra. Io credo che oggi la nostra impostazione sia stata perfetta contro di loro. Dovevamo essere un pochino più ficcanti nelle ripartenze. Abbiamo avuto due palle clamorose nei primi due minuti, che cambiava la partita. Però in questo momento qua dobbiamo lecarsi le ferite e prendere qualche calcio in culo tutti. Lo prendiamo volentieri perché andiamo in cerca proprio che gli episodi positivi non vengano dalla nostra parte. Posso chiederle se alla fine con quel doppio cambio l'Asic e Martignago si aspettava qualcosina in più in zona da tanto? Volevamo vincerla, ho messo Martignago per Florio, che era un pochino stanco. Ho messo l'Asic per Ilari, che era sicuramente stanchissimo. Costa Ferreira altrettanto. Quindi abbiamo dovuto ricucire un po' il centrocampo, che è diventato meno qualitativo. Però sugli esterni potevamo fare più male. Non abbiamo avuto la palla, secondo me, importante. Anzi, ne abbiamo avuto una con Cianci, probabilmente, ancora prima. Ma non siamo riusciti ad essere ficcanti come pensavo di esserlo negli ultimi venti minuti. Però i ragazzi, io sull'impegno non posso dire nulla. Solo che su queste distrazioni qua ci stiamo giocando un campionato. Grazie.